Bella a tutti i miei su YouTube qua, è già Mistecchetto che vi parla e oggi siamo qua Un po' a cambiare sul mio canale FIFA lo riavrete, non vi preoccupate Ma intanto ho deciso di portarvi Super Meat Boy Rage Game assurdo, lasciate un mi piace subito per supportarmi Perché sarà una delle avventure più difficili Iniziamo subito con il primo stage, The Forest Ok, come si gioca, così, salta, bam Livello completato Poi andiamo avanti subito Su, su, su E bam Vabbè, i primi livelli sono proprio delle cazza R1 quadrato Oh Ok, così si scatta con R1 Andiamo su di qua Benissimo Poi proviamo ad andare su di qua E via Un altro livello è completato Boom Bella No, sono morto perché I conigli mi uccidono Oh, bella Oh, cosa è questo, porta Oh, porta Lucio Ha raggiunto un trofeo Oh, si salta Oh, che cazzo No, aspetta E ciao, ma come pensi che io possa fare un livello Oh, e lo fa Subito Primo livello di questi completato Bene Allora, di qua come posso passarci No Fail Epic fail E qua Come diavolo dovrei fare Oh Oh Ok Ci siamo Non sbagliamo ora Bam Un altro livello completato Meat boy Poi qui Urca Inizia a essere più difficile La storia Matta Si, vabbè Ma se io non so dove devo andare Però Porca la Eva Maiala Oh Eh, vabbè Ok Abbiamo capito che abbiamo perso Andiamo al 5 e su Ora non lo prendiamo il portalino Andiamo diretti al punto Bam Vinto Prossimo Subito Johnny Stecchetto La velocità Nel fare i livelli Si Scherzavo Benissimo E vince pure questo No Eh Mignotta la Eva Boyer Ok E vince ancora Subito Poi Intanto Vabbè I primi livelli Per forza Non faranno sclerare Più di molto Però Arriveremo poi A un punto Che non ce la faremo più E spaseremo talmente tanto Che Boh Io non capirò più niente Impazzirò Tutti voi riderete Per le mie reazioni Inaspettate Aspettate Perché In un gioco così Chi è che non sclera Ok Abbiamo distrutto il muro Bam Ci leviamo Benissimo E vincono anche questo Ah Questo qua Oh Dobbiamo stare attenti Subito Bam E anche questo Pronto Ma quanto siamo forti Raga No E Subito parlare Troppo presto Ok Ci siamo E anche questo Completato Arriviamo a questo Dov'è Ok Dobbiamo stare attenti Alla lama No Madonna Ok Ancora Porco Cazzo Ma perché va contro la lama Il meat boy Ok 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 Bam E anche questo Superato Non va bene Per niente Bam 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 Ci siamo quasi Raga Non sbagliamo ora La lama Di merda E poi Cado giù a caso Bella Comunque Raga Questo gioco È una bella serie Da portare avanti Anche perché so che Vi divertirete A sentirmi sclerare Prima o poi Inizieranno Eccole le sclerate Speriamo di non iniziare Ora Ok Lama Aspettiamo No Dio Madonna Madonna Ok Aspettiamo Bene Bene Poi E lo fa Bam E già questo Iniziamo a complicarsi La situa Ora Vabbè È easy Questo Così Aspettiamo la lama Passiamo Oh Le skill di stecco Lasciamo passare la lama E passiamo Passa la lama E passiamo E subito E vince pure questo Raga ma che fenomeno Perfetto Proviamo a salire di qua Ok Per interessare Ditemelo nei commenti Che Ve lo porto Subito Benissimo Saliamo di qua Saliamo di qua Scatto Oh Ok Qua Dio Porca miseria Mignotta Maiala Bene E lo passa Oh E come lo passa Anche questo Che cazzo fai Che cazzo fai Meat Boy Non riesco a saltare Aspettate Voglio provare a fare Una cosa No Non so come farlo Raga Sto continuando a morire Per un livello di merda Sueno Ok Siamo passati Poi proviamo a salire qua Prendiamo la mega rincorsa E via Pum 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 Fino a qua arriviamo sempre Oh Ce l'abbiamo fatta Non sbagliamo ora Bene Ora salto Bene Ora dobbiamo stare attenti Perché non voglio fallire Ancora 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 Bella Pericoloso Lascia passare la lama Corri 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 Vum Vinto Oppure questo Oh oh E ora regà Siamo arrivati alla fine di The Forest Dobbiamo fare Il minzeca di boss Arriva Che cazzo Che Prendo subito la lama Ok 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 Non va bene per niente Mi inceppo sempre lì E passa Fieramente Fieramente Stai attento alla lama qua E anche lì Anche lì Tutto è pieno di lame Questo livello Porca Non va bene Dobbiamo farlo tutto in corsa Se no ci prende Sto cazzo di nemico Finale Boss Ok Perfetto E passa ancora Bene Ora dobbiamo stare attenti Se è stati Macinati qua Prima E di nuovo Ancora qua Bene Parti Bene 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 Ok Ora stiamo attenti Che qua E' la parte Difficult Ok Attenzione Attenzione Fermati Vai Vai Passa Madonna Dobbiamo superarlo Di un po' Subito Se no non ce la facciamo Ok 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 Dai Sfondati Muro di merda Arriva Non ci credo Madonna Ok Ancora Ancora Vai Passa benissimo Passato stra bene Ora possiamo andare più veloce Acceleriamo Allora torniamo indietro Passiamo Ancora Vai che ce l'abbiamo quasi fatta Sono sicuro che siamo quasi alla fine Ok 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 E attenzione regà Attenzione regà Distrutto il nostro nemico Vediamo il filmatino finale Dai Grandissimo regà Intanto c'è il pipottino cattivo E noi facciamo E noi facciamo Ciao ciao E che cazzo No Basta Ce l'ha portata via di nuovo La nostra scopa amica E lui ci rimane malissimo Tutti gli scogliattolini morti in fiamme Bruciati Ne è rimasto solo uno Poverino No Urco cane Intanto ci sono cani che urlano vicino a casa mia Porca miseria Mentre io Urco Poverino Va benissimo regà Siamo arrivati A The Hospital La prossima puntata faremo The Hospital Un capitolo alla volta Li faremo tutti Quindi regà Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Bella regà Grazie a tutti Grazie a tutti.